Buonasera a tutti, siamo qui con Enrico Viganò, CEO di FINDYNAMIC. La ringraziamo per il tempo che ci sta dedicando, le vorremmo fare giusto un paio di domande. Innanzitutto, come può una storia di valore come la vostra ispirare giovani talenti italiani? Sicuramente per noi trovare talenti è importantissimo perché ci permette di crescere. Lavorare in una fintech, lavorare con FINDYNAMIC può essere fonte di ispirazione per persone che vogliono avere una storia imprenditoriale. Iniziare quando si è giovane, ha 23-24 anni, è molto più semplice di farlo quando ne hai 35-40 e anche molto meno rischioso. FINDYNAMIC offre tutti i giorni possibilità a giovani di far parte del nostro gruppo. Noi abbiamo proprio un programma di crescita dedicato a lavorare con noi, anche frequentare, tra le tessere a lato, di partner come Unicredit che è il nostro partner in Italia. Bene, grazie. E a questo proposito, secondo lei, quali sono le skill che i giovani devono sviluppare per essere il motore dell'innovazione made in Italy? Sicuramente aver voglia di fare la differenza, avere curiosità, non fermarsi mai davanti ad un no e una specie di resilienza, cioè attraverso utilizzare la maggior parte delle esperienze che si possono fare di trasformare problemi in opportunità. Bene, ringraziamo ancora Enrico Viganò ed Aoi Cosmos per Talent in Motion. È tutto.